Buonasera e ben ritrovati dai campionati CAI, amatori Silver League, apertura di calcio a 5. Si sfidano il Drago San Giorgio e la capolista CSG Futsal con in paglio la promozione diretta in golden amatori. Il Drago San Giorgio in maglia giallo-nera schiera Scarpinati, Riccardo Malchiodi, Paolo Casella, Fabio Casella, Calamari, Mirko Malchiodi, Agogliati, Marcarini e Magno, allenatore Mister Rossi. CSG Futsal risponde in maglia bianco e rossa con Sacchi, Berac, Pizzocoli, Absi, Colmi, Finotti, Masiero e Abico Anen, allenatori Cardillo e Cassani. Inizia subito forte il Drago San Giorgio qui con Magno che recupera il pallone a centrocampo, poi serve in avanti Casella, lo stop, il mancino violentissimo sotto la traversa ed è 1-0. Ancora il Drago qui con Calamari che intercetta un pallone, salta anche il portiere, gran gol, quello che vale, il 2-0 per il Drago. Padroni di casa ottimi anche in difesa qui a chiudere l'avanzata di CSG Futsal, poi Agogliati si fa tutto il campo, palla al piede, la mette sotto le gambe del portiere ed è 3-0 per il Drago San Giorgio. Prova a reagire CSG qui con Colmi che serve, Pizzocoli che va in porta con il destro, molto potente ma è soltanto palo. Altra occasione sempre per Pizzocoli che va in porta ma Scarpinati è attento e respinge la sfera. Scarpinati qui poi però regala il pallone a Colmi che non ci pensa su due volte, va col destro e accorcia un po' le distanze, siamo sul 3-1. Ci prova ancora il Futsal ma l'arbitro fischia la fine del primo tempo, prima frazione che termina con il Drago San Giorgio in vantaggio per 3-1. Nel secondo tempo da questa rimessa non sfruttata dal Drago nasce il gol più bello della partita, lo firma Colmi direttamente da casa sua, il gol che vale il 3-2. Ancora CSG in avanti ci crede sempre con Colmi che riceve con il destro dopo la respinta, insacca per il gol del 3-3, tripletta personale CSG. La rimessa in piedi, poi però Calamari riceve il pallone, si fa tutto il campo, va in porta col Mancino, riporta in avanti i suoi. E' 4-3 Drago, altra occasione poi sempre per il Drago, sempre con Calamari che incrocia con il destro, fa 5-3, tripletta personale anche per lui. L'ultimo ad arrendersi però per CSG Futsal è Colmi che qui riceve dopo un recupero palla di un suo compagno, insacca per il poker personale. E' 5-4, la partita è riaperta. Il CSG ci crede fino alla fine ma non c'è più tempo, triplice fischio, il Drago vince 5-4 e ottiene da imbattuto la promozione in gol del Amatori.